Voglio chiudere con il mensile ufficiale della Polizia di Stato perché è importante ricordare le nostre forze dell'ordine. Eccola qui la copertina e vi segnalo le tante pagine con le tante notizie, ma c'è in questo numero il Grazie Polizia con l'intervista al ministro Lamorgese di Domenico Cerbone nel 169esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Poi le tantissime altre pagine, gli altri approfondimenti, per esempio si parla dei questori al centro e poi un'altra cosa che vi segnalo, un viaggio nel cuore del Viminale per scoprire il punto di raccordo nazionale del flusso informativo emergenziale.